Ciao a tutti! Questa è Ferla, la mia riuscissima cucciola di poker in spagnolo inglese. Oggi vogliamo mostrarvi come divertirsi a giocare insieme al proprio cucciolo. E poi il gioco, diciamo che, oltre ad essere un divertimento, diventa un modo per comunicare con il proprio cane. Sicuramente poi utile nel futuro. Basta, è semplicissimo. Ci vogliono dei premi che sto per prendere, ovvero dei croccantini, quelli che è solitamente dato al vostro puzzolo. E poi un bel cerchio. E' semplicissimo. Basta far vedere il croccantino al puzzolo e utilizzare un comando, ad esempio, hop, hop. E' bella, bella, hop, hop. Salta, hop, hop, hop. Hop, sicuramente all'inizio uno mi ascolterà subito, ma poi imparerà. Basta farle dei complimenti e delle carezze. Brava! Grande perla! Vai perla! Hop! Brava, good girl! Good girl! Vai perla, vai! Hop! Hop! Forza perla! Hop! Hop! Brava! Good girl! Good girl! E' bella, hop, hop, hop. Bravissima! Hop! Hop! Brava, perla! Bravissima! Avete visto com'è semplice? E' bello divertirti con il proprio cane per le feste. Ciao a tutti!